Salgono a 16 le vittime da coronavirus in Umbria dopo un'intera giornata senza decessi. Quella di domenica un nuovo paziente è venuto a mancare stamane nel reparto di unità di terapia intensiva dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove era stato trasferito dopo il ricovero in malattie infettive con diagnosi di contagio da covid-19 e si tratta di un volto noto nell'ambiente ugubino, in particolare quello sportivo. La sedicesima vittima Umbra del coronavirus infatti è l'ex calciatore rosso-blu Vincenzo Pasqua bomber del Gubbio degli anni 60-70. Una notizia che è arrivata nel primissimo pomeriggio ed è stato cordoglio nell'ambiente calcistico e dei tifosi del Gubbio. Pasqua era stato a partire dal 1969 grande protagonista in maglia rosso-blu formando una formidabile coppia d'attacco con Marcello Cagnazzo. I due si erano ricongiunti in occasione della partita tra vecchie glorie svolta nell'autunno del 2000 per il novantesimo rosso-blu al San Biagio, amichevole organizzata per i novant'anni della Gubbio Calcio. Implacabile sotto rete era soprannominato Fucilino ed era beniamino dei tifosi che coniarono all'epoca la frase Dio perdona, Fucilino no. Il saluto sul web è arrivato anche dall'ex capitano di quel memorabile Gubbio, Renzo Cenci. Restando a Gubbio la giornata ha fatto registrare un nuovo caso positivo, un anziano ricoverato all'ospedale di Città di Castello, mentre il computo dei contagi nel comprensorio dell'Alto Chiascio è arrivato a 22 con un primo caso registrato ieri a Sigillo e oggi uno a Costacciaro, comuni nei quali è stato di conseguenza attivato il COC presso le rispettive sedi municipali. Intanto il trend dei contagi in Umbria continua a scendere secondo l'ultimo bollettino della regione Umbria. Oggi 50 nuovi contagi contro i 60 di ieri e i 67 di sabato. È il quinto giorno di fila che il trend prosegue ma in misura sempre più contenuta. A fare da contraltare il fatto che gli ospedalizzati crescano del 12 per cento e soprattutto quelli in terapia intensiva arrivati a quota 42 aumentino del 20 per cento. Elementi questi frutto dell'aumento dei contagi delle scorse settimane. Dai dati regionali sono ora in tutto 577 casi di persone positive in Umbria. I guariti sono 5 di cui 4 nella provincia di Perugia. Dei 16 deceduti 10 nella provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. Sono ricoverati in 148. I ricoveri nell'ospedale perugino sono 64, 37 in quello di Terni, 21 a Città di Castello, 25 a Pantalla e 1 a Spoleto. Le persone in osservazione sono 2.274. Il lieve risalita più 25 dopo due giorni di calo mentre risultano 1.884 i soggetti usciti dall'isolamento nel complesso in Umbria. Sono stati eseguiti ad oggi 3.561 tamponi.